Abbiamo pensato a due percorsi, 23 km e 1000 metri di dislivello, 13 km e 450 metri di dislivello. Un obiettivo chiaro, far conoscere il nostro territorio alla gente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!